e essere persone di valore, non sciampiste, non catramisti, perché nessun dorma, nessun dorma, salutiamo Roxy, dovete svegliarvi, non lasciarvi sopraffare dall'indolenza, brava Roxy, non lasciarvi sopraffare dalla stanchezza, dall'indolenza, dalla pigrizia, voi che dormite come questo concetto, diciamo, nessun dorma, va bene, non è che voglio rifarmi a Giacomo Puccini, salutiamo Roxy, Roxy vedete, ad esempio Roxy dorme, dorme come no, e sveglia, oggi sono già le mezza passate, però questa è una potente metafora per sviluppare l'autostima attraverso una routine di disciplina e forza interiore, perché l'autostima in tutti gli ambiti della tua vita tu la sviluppi soltanto attraverso la disciplina, attraverso la forza interiore, essere determinati e disciplinati, la disciplina è un punto fondamentale, la disciplina è la capacità, la disciplina è la capacità di controllare e indirizzare quelli che sono, diciamo, i tuoi comportamenti, indirizzarli verso i giusti obiettivi, io credo che questa sia la base, io credo che questo sia un punto importante, la disciplina è essenziale per raggiungere obiettivi significativi nella vita, la disciplina non si limita alla forza dei volontari, richiede anche la capacità di strutturare e organizzare le proprie attività quotidiane, è un elemento chiave la disciplina per sviluppare autostima e invece un elemento chiave per sviluppare la disciplina, salutiamo Manna, Mian, un elemento chiave per sviluppare la disciplina è l'adozione di una routine mattutina efficace, che può fungere da base solida per il resto della giornata, è un punto fondamentale, la prima cosa che devi fare quando ti svegli al mattino è fare esercizio fisico, non stargli a dormire, devi fare esercizio fisico appena svegliata, la prima cosa, vai a camminare, vai in palestra, fai qualcosa, l'attività fisica mattutina aiuta a risvegliare il corpo, a risvegliare la mente, invece tu ti svegli, pigra, cammini senza una meta, per casa ti passi dal letto al divano, befana, assolutamente vietato, devi fare una sessione di esercizio fisico che ti aiuta a migliorare l'umore e a favorire la concentrazione, da subito, la prima cosa che devi fare, non è che le persone si svegliano al mattino rincoglionite, magari si mettono che ne so, in auto, si mettono per andare in qualche ufficio triste, o che ne so cosa fanno, no, al mattino e dici, ma io vado presto a lavorare, ti sveglio dalla prima, non importa, ti puoi alzare anche alle 5, alle 4, alle 3, ti devi svegliare, quando serve. Quindi, ma prima potresti fare anche meditazione, anche meditazione per calmare la mente, ridurre lo stress, iniziare anche la giornata con, diciamo, chiarezza mentale e serenità. Quindi inizia a fare meditazione appena sveglio, alle 5 del mattino, anche prima, anche alle 4 e mezza, alle 5 del mattino, ti svegli, fai meditazione, 10 minuti, un quarto d'ora di meditazione, alle 6 vai in palestra, ti alleni, anche basta 50 minuti, così, quello che è, alle 7 tu sei già fuori, sei già pronta per iniziare la giornata e hai fatto una routine, no, hai fatto una routine, dici, ma io c'ho sonno, e non vuol dire che c'hai sonno, ti svegli lo stesso. Mike Tyson si allenava alle 4 del mattino, ma non tanto perché non poteva allenarsi alle 7, alle 8, alle 9, si allenava alle 4 del mattino per darsi una disciplina, perché il fatto di svegliarsi al mattino ti dà una disciplina, ti dà una disciplina, è come iniziare la giornata avendo fatto qualcosa di positivo, avendo già raggiunto il primo obiettivo, quindi dai un improvement, no, alla tua giornata, ti svegli al mattino e hai già raggiunto un obiettivo fondamentalmente, questo è il concetto fondamentale, devi iniziare a pianificare poi la giornata, però hai sviluppato già una, come possiamo dire, hai già raggiunto un primo obiettivo appena alzata, ed è importante questo, cioè, tra l'altro la disciplina ha tanti vantaggi anche da un punto di vista generale, perché aumenta la produttività, cioè una buona disciplina ti permette di avere maggiore efficienza, ti permette di ridurre il tempo sprecato, ti permette di aumentare la tua produttività nel complesso, se tu non hai disciplina, eh ma io non so, non riuscirai a raggiungere nessun obiettivo nella tua vita, ma in qualunque ambito, lavorative, ma anche banalmente per fare dei video, eh ma oggi non c'ho tempo per fare i video, eh ma domani piove, quelli che vanno in palestra, eh no oggi piove, non posso andare in palestra, eh se piove ti porti l'ombrello, e adesso vai ad allenarti lo stesso, non è che se piove viene giù il mondo, nevica o fa freddo, eh ma oggi fa caldo, un giorno fa caldo, un giorno fa freddo, un giorno piove, un giorno che ne so, quindi non importa, non importa, qualunque cosa sia tu devi farlo, qualunque cosa sia tu devi farlo, la disciplina è quello, è l'educazione, è una forma di educazione siberiana, diciamo così, l'educazione è fondamentale, e sono persone che non riescono a farlo neanche i figli, no? Con i figli, quando qualcuno dice cosa vuol dire educare i figli, beh educare i figli vuol dire quello, vuol dire che devi dargli una disciplina, non è che fanno che cazzo vogliono, fanno quello che devono fare, questa è l'educazione dei figli, perché sennò poi i figli non apprenderanno, faranno che cazzo, cioè seguiranno, certo che se uno segue il ritmo, che si sveglia quando vuole, sta a poltrino nel letto, più dormi, più dormiresti, si svegliano a mezzogiorno rincoglioniti e passano tutto il tempo rincoglioniti, oppure uno può anche andare a dormire una volta a due, alle due del mattino, ma noi non siamo fatti per andare a dormire alle due del mattino e svegliarci alle dieci, non siamo fatti così, cioè non siamo animali notturni, siamo animali diurni, quindi teoricamente l'essere umano dovrebbe andare a dormire al tramonto del sole e svegliarsi all'alba, perché così è sempre fatto, poi ovviamente oggi la routine è cambiata un po', però andare a dormire alle due di notte è sbagliatissimo, perché non ti dai due o alle tre, quello che è, c'è gente che va anche a dormire alle quattro o alle cinque addirittura, per carità se uno ha vent'anni può anche farlo fondamentalmente, però avere una disciplina è fondamentale, avere una disciplina quindi ti aumenta la produttività, ti dà un benessere mentale fisico, ti mantiene anche giovane, perché ci sono alcune persone anziane rincoglionite che stanno sempre nel letto, ma devi darti da fare, svegliati al mattino, certo se c'hai 80 anni non è che potrai fare un'attività fisica eccezionale, però anche a 80 anni puoi fare l'attività fisica, anche a 90 se ci arrivi a 90, ovviamente è collegata alla tua età fondamentalmente, no? Cioè io ho visto una gara dei 100 metri di una signora, mi sembra di 101 anni, 103 anni, non lo so, ha fatto questi 100 metri, non lo so, con tempi enormi, però aveva 102 anni, 103 anni, quindi, ma con una chiara struttura e un focus determinato è più facile anche perseguire obiettivi a lungo termine. Allora, quali sono le strategie per migliorare la tua disciplina? Allora, ti devi definire degli obiettivi intanto, intanto devi strutturarti una routine di vita con alcune cose che secondo me sono fondamentali, tipo svegliarsi presto al mattino è la prima disciplina, cioè, e praticamente devi anticipare almeno di un'ora, un'ora e mezza il tempo che ti alzi, cioè vai a lavorare alle 7, ti sveglia alle 5 e fai perlomeno sport e meditazione, meditazione e sport devi farlo. Se vai a lavorare alle 8, puoi svegliarti magari, che ne so, alle 6, 2 ore prima, 2 ore e mezza prima, 5 e mezza, comunque mai alzarsi dopo le 6, sempre prima delle 6, cioè alle 6 devi essere già in piedi, chi dorme dopo le 6 sbaglia, secondo me. Bisogna svegliarsi, diciamo, tra le 4 e le 6, questa è l'ora in cui una persona non deve svegliare, tra le 4 del mattino e le 6 del mattino. Puoi fare attività fisica, è ovvio che se ti svegli alle 4 non è che puoi andare a dormire alle 2, se no, se è appena andato a dormire ti svegli. Quindi devi avere, ma magari ti puoi svegliare alle 5, alle 5 e mezza, alle 6, massimo alle 6, mai dopo alle 6. Quindi, crearti, stabilire degli obiettivi che vuoi raggiungere, è un punto importante, definire degli obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, temporalmente collocati, e poi devi crearti delle abitudini positive, come ad esempio quello di alzarti presto al mattino, fare 10 minuti di meditazione e almeno 3 quarti d'ora di allenamento in palestra. O in palestra, o dove vuoi, insomma, uno può anche andare a correre. Io consiglio la palestra perché all'allenamento con i pesi migliora il metabolismo, ti fortifica, ti rende più forte, più tonica, e quindi migliora, no? Anche per le donne, sia per le donne che per gli uomini, l'allenamento con i pesi è essenziale. Una volta c'era questa idea dell'allenamento aerobico, ma l'allenamento aerobico alla fine serve poco, e comunque, cioè serve molto poco. Per il metabolismo è molto meglio l'allenamento con i pesi. Poi ovvio uno deve anche camminare, no? Perché noi ad esempio più che per correre siamo fatti per camminare. Quindi io suggerisco allenamento con i pesi, e magari anche qualche camminata da inserire poi durante la giornata, ma ad esempio basta evitare di pigliare la macchina e andare a camminare a piedi. E poi monitorizza, monitora i progressi, no? Cioè tieni traccia dei tuoi progressi per rimanere motivato e ovviamente, diciamo, affrontare, salutiamo, salutiamo. Ecco, brava, brava, ci trulla. Tra l'altro questa dorme, vedete, la chiara, la stella del mattino! Devi svegliarti presto al mattino! Alle sei, tutte le mattine, non stare a poltrire nel letto! Alle sei in piedi, salta su! Befana, la stella del mattino deve alzarsi presto! Alle sei, o anche prima, cinque e mezza, sei, non di più! Quindi la disciplina è una combinazione di forza, di volontà e strategia organizzativa. Chi dorme non piglia pesci, bisogna svegliarsi, bisogna svegliarsi. Al mattino ti devi svegliare, cinque e mezza, sei, al massimo. Un quarto d'ora di meditazione, tre quarti d'ora di palestra. O altro esercizio fisico, fondamentalmente. E questo è un punto fondamentale. Ma la stella della notte non c'è! Allora, alla notte non siamo, non siamo, non siamo fatti per stare svegli di notte! Siamo fatti per stare svegli... Poi se uno una volta alla settimana vuole andare a dormire alle due, alle tre, può farlo. Ma se lo fai tutte le volte, vai contro natura, contro natura vai! Noi non siamo fatti per andare, per stare svegli la notte e dormire di giorno. Ma chi l'ha mai visto uno che sta svegliando? Poi uno dice facci i turni, se fai il coso di notte va bene. Però noi dobbiamo, diciamo, svegliarci al mattino presto e andare a dormire. Cioè, l'ideale, il ciclo naturale sarebbe andare a dormire al tramonto e svegliarsi all'alba. Se l'alba viene alle tre, ti svegliate alle tre e si va a dormire. Però diciamo che oggi, nel ciclo che abbiamo oggi, diciamo, è quasi impossibile andare a dormire al tramonto e svegliarsi all'alba, no? Però, comunque sia, non ha neanche senso andare a dormire alle due, alle tre di notte e svegliarsi alle dieci, alle undici del mattino. E veramente, inizi la giornata che sei già rincoglionito. Sei già rincoglionito. E poi non hai forza interiore, perdi autostima, perché ti svegli già stanco. Ti svegli, quando, ma è capitato pure a me, eh, di andare a dormire, magari, ovviamente questa è una cosa tipica dei giovani, no? Magari un ragazzo a vent'anni fa una serata, va a dormire, che ne so, alle cinque del mattino, poi si sveglia a luna, rincoglionito come un catramista demente, non conclude un cazzo tutta la giornata, magari la giornata è piena di maldi... Ecco, puoi evitare di bere alcolici. Cioè, evitate di bere alcolici. Gli alcolici fanno male. Cioè, anche lì, se tu bevi una volta al mese, ma gli alcolici fanno male. Cioè, vedete tutte le cose che vi dicono, no? Cioè, non è che dici, eh, ma un bicchiere di vino. Va bene, un bicchiere di vino una volta ogni tanto, ma gli alcolici... Superalcolici vanno eliminati totalmente, ma anche il vino va eliminato. Perché il vino, la birra, poi per gli uomini è deleteria. La birra per gli uomini, a parte che ti viene un panzone da birra, poi la birra contiene estrogeni, è un po' come la soia, per il maschio non va bene, ma neanche per la femmina, perché gli viene una panza, cioè ti gonfia, è un gas che ti metti dentro, ti fermenta lo stomaco, cioè non va bene la birra. E il vino, se ne bevi un bicchiere ogni tanto sì, ma comunque l'alcol in generale, noi non siamo fatti per bere alcol. Non siamo fatti per bere alcol. Non siamo fatti per bere alcol, noi. Purtroppo è un dato di fatto. Poi ovviamente l'alcol lo vendono, lo commercializzano, ma... Ripeto, se uno beve da giovane, però l'alcol andrebbe abolito totalmente. Andrebbe abolito totalmente l'alcol. Totalmente abolito. Questo è un punto fondamentale. La disciplina è una combinazione di forza e volontà, di forza e di volontà e di strategia organizzativa. È una routine matutina ben strutturata, una routine matutina ben strutturata, che include esercizio fisico, meditazione e pianificazione. È un potente strumento, veramente molto potente, per sviluppare e mantenere la disciplina, per migliorare la produttività, per migliorare il benessere complessivo della persona. È un punto fondamentale. Credo che secondo me sia proprio un punto fondamentale. E poi, ovviamente, l'esercizio fisico, ad esempio, non solo migliora la salute fisica, ma ha anche un impatto positivo sulla mente. Cioè, molti studi dimostrano che l'esercizio fisico riduce i livelli di stress, migliora l'umore, aumenta la fiducia in se stessi e una routine di esercizio suggerisca i pesi al mattino ti aiuta a iniziare la giornata con positività. E questo è un punto fondamentale. Ci vuole autodisciplina, ma l'autodisciplina dobbiamo darcela a noi, ad esempio, no? Ma quando vedi che le cose poi ti vanno meglio, ma anche la forza interiore ti aiuta a sviluppare non solo autostima, ma anche la forza interiore. La forza interiore è un altro elemento fondamentale che noi attraverso la disciplina possiamo fare. Certo, possiamo farlo noi, però chi ha i figli dovrebbe educare i figli. Cioè, i figli vanno educati, ci vuole un'educazione siberiana con i figli, secondo me. Cioè, oggi c'è troppo lassismo con i ragazzi, con i ragazzi giovani, secondo me. Fanno che cazzo vogliono. Hanno 14-15 anni e fanno che cazzo vogliono. No, a 14-15 anni non fai che cazzo vuoi, fai che cazzo voglio io. E io ti do la disciplina. E questo è un punto fondamentale, no? Certo che non è che puoi dargli la disciplina quando c'ha 25 anni. Perché oramai a 25 anni ti diceva fanculo. Evidentemente. Ma tu, ai ragazzi, la disciplina, devi dargliela a 6 anni, 7 anni. Ci va un'educazione, un'educazione siberiana. Diciamo così, no? E non è che i ragazzi, eh ma mio figlio vuol fare quello che vuole. Eh ma vuol fare quello che vuole. E ma fa quello che vuole sto cazzo! Non fa quello che vuole. Perché se no non è educazione, no? È come un cane per dire, che gli dici fai quello che vuole, il cane ti caga in casa, ti tirosicchia il coso. Cioè, non è che fa quello che vuole. Dove fare quello che vuoi tu. Cioè, la forza interiore è una qualità fondamentale, no? Che permette alle persone di affrontare l'avversità e rimanere resilienti e mantenere una visione positiva, nonostante le difficoltà. Coltivare la forza interiore richiede discipline. Questo può essere facilitato, diciamo, attraverso diverse pratiche. Io suggerisco anche qua la meditazione. La meditazione e le pratiche meditative aiutano a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. A sviluppare il... Migliorare il proprio stato emotivo. Riducono lo stress, migliorano la concentrazione, rafforzano la capacità di affrontare situazioni difficili, con calma e lucidità. Questo è un altro punto... È un altro punto fondamentale. E poi l'autoriflessione, no? Prenderti anche del tempo per riflettere. Per riflettere sulle tue esperienze, sulle tue emozioni, imparare a gestire lo stress, imparare strategie per gestire lo stress, come ad esempio la respirazione consapevole, la respirazione profonda, il rilassamento, il training autogeno. È tutto importante questo, no? Però devi farlo con la disciplina. La disciplina è la base del successo in tutte le aree della vita. Se non hai disciplina, non riesci a fare un cazzo. Cioè, non riesci a fare niente. Ma neanche nello studio, no? Ci sono ragazzi che dicono, eh, ho iniziato a fare uno, a studiare questo, poi ho smesso, adesso inizio a fare quell'altro, poi ho smesso. Ah, mio figlio ha fatto questa scuola, poi no. No, dovete dare disciplina. Disciplina è forza, è fondamentale dare disciplina. La disciplina, l'educazione, deve essere un'educazione siberiana, ma, e tu te la devi autosomministrare. Cioè, e non è che perché non c'hai voglia non lo fai. Eh, ma oggi non c'ho voglia di andare in palestra. Proprio perché non c'hai voglia ci devi andare. Ci devi andare anche se c'hai voglia, ovviamente. Ma proprio perché, cioè, non è che dobbiamo fare le cose sulla base se abbiamo voglia o se non abbiamo voglia. Dobbiamo fare le cose per disciplina. Cioè, come dire, no? Uno inizia la cosa fondamentale al mattino. Ad esempio, dicevano che i Marines dovevano farsi il letto perfettamente non so in quanto tempo, e dice, ma che c'entra perché il Marines deve sapersi fare il letto in un certo modo, in tempi brevissimi. Io avevo sentito un'intervista di un, mi sembra, un generale dei Marines che diceva non è fare il letto o non fare il letto, perché uno potrebbe anche dormire nel letto sfatto, no? Cioè, non è quello. Ma è per dare disciplina. Cioè, tu ti svegli al mattino e devi fare sto letto perfetto. Perché è quello che ti fortifica la tua disciplina. E questo è il concetto di fondo. Non è che tu lo fai per un motivo piuttosto che per un altro. È per fare la disciplina. Non è che tu devi svegliarti alle cinque perché, ma perché se no tu ti lasci andare e ti puoi svegliare anche a mezzogiorno. Ma vuol dire che perdi molto. Perdi la tua disciplina. Perdi la tua forza. Questo è il concetto di fondo, no? Poi ovviamente non ci sono anche delle altre pratiche che possono aiutarti. Ad esempio, salutiamo Betty Coates. Vedete che questa dorme. Sto dicendo che devi alzarti alle cinque e mezza, Betty. Non potrire come te. Sveglia! Presto! Alle cinque! In piedi! Fai l'attività sportiva! Fai sport! E alle sette sei già lì a capomanino a dipingere! Alle otto! Tra l'altro domani sera... No, dopo domani sera ci sarà la Befana. Ci sarà la Befana. Ci sarà la Befana. Sul canale. Le due Befane. Le due Befane. Martedì sera ci saranno le due Befane. Bisogna fare come i Marines. Dobbiamo essere tutti Marines. Sveglia al mattino. Alle cinque. Fatti il letto. Alle cinque e mezza mediti. Alle sei sei in palestra. Alle sette sei pronta per fare che cazzo devi fare. E hai già fatto un sacco di cose. Sono le sette del mattino e hai già fatto un sacco di cose. C'è gente che alle sette del mattino è ancora lì a russare. Come un catramista. A russare come un catramista. E questo è il concetto di fondo. Bene, bene. Vi ricordo che alle undici tutti puntuali sul canale. Alle undici. Alle undici. Intanto mettete un like. Iscrivetevi al canale. Abbonatevi al canale. Ciao. Ciao.